Ciao, sono Marco Ghetti e assieme al mio socio Maurizio Mancuso rappresentiamo Unipol Sai, eccellenza nel mondo assicurativo. Unipol Sai è anche noleggio lungo termine e telepedaggio ed è per questo che nasce Unipol Move, l'alternativa al sistema di telepedaggio. Provalo per i primi sei mesi gratis e poi un euro al mese. Con l'occasione della partita dell'8 gennaio contro il 100, i tifosi dell'RBR avranno l'opportunità di avere Unipol Move per 12 mesi gratuito e poi un euro al mese. E se io sono già dotato di un sistema di telepedaggio come ad esempio Telepass? Nessun problema, basterà riconsegnarlo anche durante la partita contro il 100 dell'8 gennaio, lo riconsegni a uno dei nostri collaboratori durante l'evento al nostro desk, saremo noi a riconsegnarlo e ti forniremo Unipol Move fiammante nuovo che potrai utilizzare in seduta sante. La Ghietta e Mancuso ha previsto qualcosa per i nostri abbonati? Assolutamente sì, ci teniamo, siamo vicini agli abbonati, siamo vicini ai tifosi dell'RBR per cui con l'occasione abbiamo previsto una scontistica dedicata su tutti i prodotti assicurativi con una scontistica che varia dal 10 al 25% a seconda del tipo di prodotto e nell'ambito dell'assistenza dei servizi collaterali come il noleso lungo termine o il telepedaggio. Grazie. Grazie.